Ciao, sono Cristina Bauer, sono qui nel reorder del mio ristorante a Trastevere in Roma, Glastostaria, ormai qui da 18 anni. Vediamo un po'. Spaghetti, pizza pasta, mocha, caffè, espresso, stracciatella, mozzarella, pizza. Cosa mi viene in mente? Ecco, questi sono gli italianissimi che non si riferiscono semplicemente ad un prodotto, ma identificano la nostra comunità e questa è la nostra cosa. Noi siamo noti per lo stile, per l'arte, per la moda, ma per quanto mi riguarda ovviamente per il cibo. È proprio attraverso il cibo che noi riusciamo a portare avanti il concetto, la nostra cultura. Sapete, Jacuzzi, nella storia del marketing, è stata la prima compagnia che è riuscita a identificare un brand con un oggetto. Ecco, noi abbiamo fatto lo stesso con il nostro cibo. Identifichiamo spaghetti, ad esempio, con la cultura italiana. Noi siamo protettori della biodiversità, noi siamo coloro che hanno inventato e che, soprattutto, attuano ogni giorno la dieta mediterranea. Potete trovare molto di più su questi italianissimi grazie al progetto della Fondazione Casartiusi, in collaborazione con la famiglia privata. Davvero, portiamo avanti quella che è la nostra cultura, attraverso l'italianismo. E usando l'italianismo, daremo anche la nostra cultura. Grazie.